Musica Buonasera, bentrovati con il Tg Max, c'è la pagina politica in apertura. L'Italia dei Valori accusa il commissario ad acta Gianni Chiodi di fare sanità clandestina e di voler chiudere a breve gli ospedali di Attessa, Atri e Ortorna. Nel servizio sentiamo la denuncia del capogruppo in Consiglio regionale, Carlo Costantini. L'IDV denuncia manovre clandestine in merito alla sanità abruzzese, definendola clandestina a causa di obiettivi in atto che, secondo il capogruppo Carlo Costantini, sarebbero tenuti nascosti dal governatore Chiodi, che tesserebbe da dietro le quinte le reali trame del destino della sanità in Abruzzo. Ma nulla Chiodi dichiara ai cittadini. Se lei prende il documento di programmazione 2011-2012, non troverà una riga nella quale è dichiarato espressamente che vuole chiudere Atri, che vuole chiudere Atessa, che vuole chiudere Ortorna. Se però legge tra le righe, tra il dico e non dico, tra un passavanti e un passadietro, scoprirà, e poi nei fatti questo è confermato perché sta avvenendo, scoprirà che i direttori generali, sulla base di veri e propri pizzini, e non sulla base di atti di programmazione certificati, validati e conosciuti all'opinione pubblica, stanno progressivamente spoliando gli ospedali di Atessa, di Ortona e di Atria, soprattutto dei posti letto per acuti. Nello specifico l'IDV lamenta la non trasparenza, e ancora peggio l'inesistenza di un piano operativo recante gli obiettivi del piano sanitario 2011. Tutto questo sta avvenendo all'insaputa dei cittadini, e dal mio punto di vista è gravissimo, così come è grave il numero, il dato sulla mobilità passiva, che Chiodi affronta con una superficialità incredibile, senza rendersi conto del fatto che 100 milioni di euro programmati per il 2012, di prestazioni sanitarie pagate dall'Abruzzo, ma prodotte fuori dall'Abruzzo, vogliono dire circa 2000 posti di lavoro in meno, posti di lavoro che sarebbero stati occupati da giovani o da donne abruzzesi, e che invece vanno alle Marche, vanno all'Emilia-Romagna. Ancora l'IDV produce un elenco di operazioni poco chiare, indicate nella programmazione del piano 2011-2012, che cadono fortemente in contraddizione con la realtà dei fatti. A tutto questo si aggiunge che nel piano operativo 2011-2012 è previsto un taglio del personale per altre 24 milioni di euro, con altre 6-700 ragazzi che perderanno l'opportunità di lavoro, e a tutto questo si aggiunge che la compartecipazione del cittadino, il cittadino al quale hai tolto la speranza di lavoro, cresce fino a 24 milioni di euro nel 2012. Questo vuol dire concretamente che per avere una prestazione sanitaria dovrai metterti le mani in tasca pesantemente, insomma è chiaro che nel 2012 ci sarà un effetto depressivo, drammatico di queste misure, mentre in realtà la spesa sanitaria, che è molto forte, potrebbe costituire ancora un volano di sviluppo e di costruzione di opportunità di lavoro che evidentemente Chiodi non ha colto. E non si è fatta attendere la risposta del presidente Gianni Chiodi che ha definito gli esponenti dell'Italia dei valori diffamatori di professione. Sentiamo. Il presidente della regione, commissario ad acta per la sanità in Abruzzo, risponde alle accuse di mancata trasparenza mosse dall'IDV. A margine di un convegno su temi sanitari a Pescara, Gianni Chiodi ha definito i consiglieri regionali dell'Italia dei valori dei diffamatori di professione. Secondo il presidente, Costantini e il suo gruppo cercano di fare terrorismo politico per lucrare un po' di consenso. Sono dei diffamatori di professione che attribuiscono a una persona delle finalità assolutamente incredibili, tipo quello di pagare delle cambiate infrastrutture lombarde, non so a chi, tipo quello di favorire la sanità privata. Sono diffamatori di professione, non hanno stile, non hanno eleganza, non sanno che cos'è il confronto politico e si rivolgono a un elettorato arrabbiato, raiato, come si dice dalle parti nostre, e così sono loro. E Chiodi rispinge al mittente anche le accuse di voler chiudere a breve gli ospedali di Atessa, Atri e Ortona. Stupidaggi. Se avessimo voluti farli chiudere, li avremmo fatti chiudere quando abbiamo fatto la riconversione, perché l'Agenzia Sanitaria Nazionale riteneva che tutti quegli ospedali in Abruzzo fossero inutili. Noi siamo riusciti a contenere, d'altra parte ci sono le dichiarazioni ufficiali di Fazio, che diceva all'epoca che in Abruzzo c'erano bisogno di 9 ospedali pubblici, più quelli privati che c'erano, e invece alla fine sono 16, quindi evidentemente non è così. Poi anche lì contano gli atti. Loro fanno sempre dei processi e delle intenzioni, cercano di fare terrorismo politico per lucrare un po' di consenso. Purtroppo stanno all'opposizione, però è un dato di fatto, insomma. E a proposito della paventata chiusura dell'ospedale di Atri, sarà presente domani alla manifestazione a difesa dell'ospedale San Liberatore e il sindaco di Atri, Gabriele Astolfi. Il sindaco ha anche formalmente invitato i primi cittadini di Silvi, Arsita, Bisenti, Cermignano, Montefino, Castiglione, Messerraimondo, Castilenti, Cellino, Attanasio e Notaresco. Astolfi in una nota spiega di voler coinvolgere tutti i sindaci della vallata del Fino per rimarcare l'importanza strategica del presidio ospedaliero di Atri, da sempre addetto al servizio di un comprensorio enorme che adesso fa riferimento. A meno di un anno dalla scadenza elettorale, il sindaco Nicola Fratino si dimette. Sono stato lasciato solo dalla mia stessa maggioranza sul caso Tamarete. La centrale turbogas di Ortona ha chiesto 2 milioni di danni per mancata attivazione. Il sindaco di Ortona si è dimesso in un incontro convocato d'urgenza con la stampa. Nicola Fratino ha motivato le ragioni che lo hanno portato alla decisione di abbandonare a pochi mesi da fine mandato lo scanno più alto della città. Non esistono più le condizioni politiche ed è venuta a meno anche la serenità necessaria per amministrare la città. Non era, non è più possibile amministrare con serenità e con efficacia perché il clima oramai sia politico e sia ambientale di serenità non è un clima adatto per poter fare bene il lavoro del sindaco. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'assenza di parte della maggioranza, sette consiglieri, all'ultima sise civica. All'ordine del giorno l'atteso procedimento per la realizzazione della turbogas in contrada Tamarete. Purtroppo nell'opinione pubblica, continuato Fratino, è maturata la convinzione che sia il sindaco attraverso il rilascio o meno dell'autorizzazione sanitaria a decidere l'attivazione dell'impianto ma così non è. Il sindaco non può che prendere atto dei dati tecnici e dell'istruttoria che fa il dirigente competente quindi poi agire di conseguenza. Invece alcuni consiglieri di maggioranza e tutta la minoranza hanno fatto credere alle persone che non è così e queste persone che giustamente sono preoccupate, esasperate che non hanno nessuna responsabilità in questa mia decisione, questo chiariamolo subito e queste persone guardano al sindaco come colui che può risolvere tutti i problemi e invece non è così e nel momento in cui non risolve guardano al sindaco come il responsabile di una cosa che li danneggia. Non è così, purtroppo non è una situazione più sostenibile. È stato fissato a lunedì prossimo l'interrogatorio di garanzia del brigadiere della finanza arrestato martedì scorso con l'accusa di concussione falso per distruzione di un verbale. L'inchiesta è relativa ad una serie di presunte minacce di severi controlli fiscali nei confronti di sei commercianti di Lanciano ed altri comuni limitrofi volti ad ottenere da parte del brigadiere merce in regalo. Il GIP Francesca del Villano Aceto, che ha emesso l'ordine di arresto ai domiciliari appoggio imperiale, città natale del brigadiere, ha accolto l'istanza della difesa di spostare il provvedimento restrittivo presso l'abitazione di Lanciano. Nascerà nel capologo Frentano l'unico istituto tecnico superiore abruzzese nuove tecnologie made in Italy, sistema meccanica, una collaborazione tra scuole, università e aziende del territorio. Le iscrizioni scadono a fine ottobre. La collaborazione tra scuole e impresa per la formazione di nuove figure professionali ha dato vita agli ITS, istituti tecnici superiori, scuole speciali di tecnologia e centri di eccellenza nati per iniziativa del MIUR, per rispondere alle necessità di sviluppo del Paese in termini di fabbisogno di tecnici specializzati. Gli ITS sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, in attuazione della legge finanziaria 2007. La Regione Abruzzo ha previsto la sperimentazione di un ITS su nuove tecnologie made in Italy, sistema meccanica in provincia di Chieti, considerata la dimensione del settore automotive nell'area e le iniziative già intraprese. A luglio 2010 è stata costituita una fondazione di partecipazione con sede a Lanciano, presso Palazzo degli Studi. I fondatori sono l'ITIS Da Vinci De Giorgio di Lanciano, l'Ipsia Pomiglio di Chieti e l'ITIS Mattia di Vasto, la provincia di Chieti e il comune di Lanciano, le strutture formative accreditate CNOSFAP ed ENFAP, l'impresa del settore produttivo IAM, Innovazione Automotive e Metalmeccanica, l'Università di L'Aquila Facoltà di Ingegneria, la Camera di Commercio di Chieti, il Patto Sangro Aventino, il Consorzio Universitario Lanciano e la Deco Italia S.p.A. Il primo corso partirà a febbraio 2012. I termini per le iscrizioni scadono il 31 ottobre. Copia del bando e modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet www.innovazioneautomotive.eu. Al termine del corso biennale, previa verifica finale effettuata da commissioni definite dal MIUR, saranno rilasciati diplomi di tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici e tecnico superiore per l'automazione di sistemi meccatronici con alte probabilità di trovare impiego nelle aziende presso le quali si sono effettuati gli stagi formativi. La prospettiva è che tra due anni queste persone possano venire a lavorare nelle aziende e possano venire a fare quello che hanno imparato in questo percorso formativo che è composta da una parte scolastica e da una parte pratica all'interno delle aziende. È previsto proprio dal bando. Noi abbiamo otto progetti, di cui due o tre avanzatissimi, che è quello del pullman, direi un mini pullman ecologico e attrezzato per disabili. Abbiamo il ducato ibrido, abbiamo qualcosa sulla saldatura, nel senso che una saldatura guidata, robotizzata e sulle vernici ad acqua. Questi sono già i quattro progetti pronti, poi ce ne abbiamo altri quattro che stanno venendo avanti. Questi sono stati tutti accettati, finanziati, verificati e cantierabili. Insomma, possiamo partire subito. Per saperne di più l'approfondimento, il punto dopo il Tg Max. Se parliamo ancora di scuola, ma cambiamo decisamente materia. Tre studenti abruzzesi parteciperanno il 14 e il 15 ottobre presso l'Accademia della Crusca di Firenze alla finale nazionale degli Olimpiadi della Lingua, organizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione. I tre studenti sono Stefano Mattina, della Quinta Moda dell'Istituto Professionale Umberto Pomiglio di Chieti, Beatrice Marziani dell'Istituto di Istruzione Superiore Domenico Cotugno di L'Aquila e Francesco Conversi dell'Iceo Classico Torlogna di Avezzano. Un grosso in bocca al lupo ai tre studenti abruzzesi. La pagina del calcio, la Virtus Lanciano, partirà domani mattina per Piacenza, dove cercherà di cancellare il primo stop della stagione. Forse solo Turchi. Al Tg Max parla mister Gautieri a Piacenza per il riscatto. Sentiamo. Ecco Carmine Gautieri, bentrovato mister. Morale sempre alto. Ma sì, nella nostra mentalità bisogna avere sempre lo stesso entusiasmo indipendentemente dal risultato. È normale che dispiace perdere, però il calcio è anche questo, si perde anche quando non meriti. Come preparare la sfida contro una grande, contro un Piacenza che la storia parla chiaro? Sempre con la stessa attenzione, concentrazione, sempre con la massima intensità durante gli allenamenti. Questo è un gruppo che lavora sodo, sappiamo cosa dobbiamo fare, indipendentemente da Piacenza, Feral Pisalò, Spezia o Barletta. Le partite vanno affrontate sempre con la testa giusta. Le sconfitte possono fare bene? Fanno più bene le vittorie, però domenica penso che abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo giocato per 70 minuti in ottimo calcio dove potevamo fare più di qualche gol, abbiamo messo in difficoltà una big del campionato, questo ci fa ben sperare. Importante, ripeto, mantenere sempre la stessa attenzione durante gli allenamenti perché poi la domenica è frutto della settimana. Forfe di Turchi, gli altri, tutti bene? Bene, c'è Rosania che ha un problema al ginocchio, ma il resto siamo tutti ben. Sono tornati anche due dalla nazionale, questo ci fa molto piacere perché sono due giovani molto interessanti con grandi margini di miglioramento. E per il calcio ODB questa sera su Telemax c'è a un muso duro, tra gli ospiti il coordinatore del settore giovanile del pescara calcio, Ferdinando Ruffini. In studio Sergio Mancini. È tutto per questa edizione del TG Max, grazie per essere rimasti con noi, arrivederci.